È molto interessante considerare le critiche che Platone fa a Pericle, allora ricordiamoci sempre che queste critiche sono in particolar modo in due dialoghi, non solo ma in particolar modo in due che sono il Gorgia e il Fedro. La prima critica nel Gorgia è più di stampo politico, la seconda più di stampo dialettico. Ricordiamoci oltretutto che Platone non visse nel periodo di Pericle perché Pericle morì un anno prima della nascita di Platone, cioè Pericle morì nel 429 a.C., Platone nacque nel 428 a.C. Quello dunque che Platone dice rispetto a Pericle, Platone lo ha sviluppato come opinione più o meno fondata sulla base del fatto che in realtà il suo maestro Socrate ha vissuto in particolar modo nell'età di Pericle, quindi il maestro di Platone, Socrate, ha visto Pericle e in certo qual modo poi influenzerà anche, si pensa, Platone. D'altro canto lo stesso Platone visse e nacque in un periodo di guerra, la guerra di Peloponneso, che va dal 431 al 404 a.C. Sembra tra l'altro che Platone abbia partecipato ad alcune campagne di questa guerra, quindi pensate voi a un bambino che nasce in una situazione di guerra, Atene contro Sparta, Platone era atenese, e che poi da questo punto di vista, sulla base anche del fatto che c'era stato Pericle, sarà influenzato comunque dalla politica Periclea, sulla base anche delle riforme che Pericle aveva fatto e sulla base dell'impostazione che Pericle aveva dato alla città. Questo comunque è molto interessante perché in ogni caso Pericle era già morto, ma Platone in tal senso svilupperà una sua filosofia partendo anche da queste influenze e dalla stessa guerra del Peloponneso. Ecco, la cosa interessante è che appunto partendo dal Gorgia, la dinamica tramite cui Platone dal Gorgia critica Periclea è di stampo specificatamente nel Gorgia politico, ovvero sia Platone critica Periclea in tal senso perché dice che, secondo lui, Periclea ha corrotto i costumi della città. Come? Beh, in due modi. Nel primo modo, in fin dei conti, da un punto di vista pratico, noi dobbiamo sempre ricordarci che, in particolar modo, nel 454 a.C., Periclea aveva fatto spostare la cassa della Lega degli Oattica dall'isola di Delo ad Atene. Questo è importante. Che cos'è appunto la Lega degli Oattica? È la lega tra Atene e i suoi alleati. Quindi, in fin dei conti, Atene e coloro che erano alleati di Atene. Attica perché Atene è nell'Attica, quindi Atene è la massima città, cappeggia questa alleanza, quindi Lega-Alleanza, Delio perché è l'isola di Delo, cassa sull'isola di Delo, Attica perché Atene è la protagonista e cappeggia l'alleanza. Ed è presente nell'Attica. Cosa è che accade? Che l'alleanza era stata costituita per fare in modo che, attenzione, ci fosse un certo tipo di applicazione tale per cui si era deciso che ogni tot si dava del denaro, ogni polis di questa alleanza dava del denaro per fare in modo che se i persiani, dopo la seconda guerra persiana, sarebbero tornati, i greci sarebbero stati pronti. Il presupposto, tuttavia, è diverso perché a un certo punto Atene cominciò a imporre tasse agli alleati e non solo fece prendere quella cassa a Pericle, la fece spostare ad Atene. Sembra anche in realtà che lo stesso Pericle fece finanziare e utilizzò in realtà i soldi, parte del denaro di questa cassa e quindi degli alleati, per in realtà finanziare, per far costruire il Partenone e anche abbellire in generale Atene. La cosa importante e quindi interessante è che, al di là di questo presupposto, il presupposto di Platone è chiaro, cioè Platone dice, attenzione, Pericle dà delle feste che sono i simposi, a cui sembra, peraltro, che non vi partecipasse per non esporsi troppo all'interno della vita civile e per quindi non avere un impatto questo all'interno della sua vita politica, perché nell'antica Grecia era molto importante, diciamo, non esporsi troppo e non ostentare la ricchezza perché poteva avere un impatto negativo sulla vita, appunto, politica. Quindi colui che partecipava alla vita politica doveva stare attento nella vita civile. Ma non di meno, in realtà, lo stesso Platone, la critica che fa direttamente a Pericle è questa. Sembra, appunto, che, in realtà era così, tutti i maschi e i cittadini adulti, intesi come, appunto, cittadini adulti che avevano, quindi, la cittadinanza, potevano partecipare alla vita politica, partecipavano alla vita politica, però Pericle, attraverso il tema della ricchezza e attraverso, in fin dei conti, il tema anche dell'uso di questa cassa, abbia influenzato, in certo qual modo, la politica atenese. Attraverso le sue feste, attraverso i suoi simpose, attraverso anche la grande arte e il fasto, abbia fatto, in certo qual modo, dimenticare i suoi concittadini della vita politica. Quindi, come se Platone dicesse, i cittadini si sono fatti del male da soli, nel momento in cui, peraltro, hanno magari deciso di seguire Pericle, in certo qual modo, rispetto a determinati dettami che egli ha proposto per la guerra del Peloponneso, perché ci sono dimenticati, in fin dei conti, non dobbiamo dimenticarci che Pericle accettò la dichiarazione di guerra di Sparta durante la guerra del Peloponneso, perché, dice Platone, ci sono dimenticati che in realtà erano loro stessi i protagonisti della città, ma Pericle, in fin dei conti, glielo ha fatto dimenticare indirettamente. Questo, dunque, è il presupposto, la critica di Platone da parte, appunto, la critica platonica nel Gorge, è una critica di stampo politico. La critica di Platone è propriamente questa, bisogna porre attenzione all'uomo che è il primo cittadino della città, in questo caso Pericle, perché è come se, indirettamente, costui, all'interno di una sorta di politica aperta, dove tutti i cittadini potessero parlare, avesse mantenuto una qual certa egemonia che lo aveva portato, in certo qual modo, a diventare una sorta di tiranno. Però poi, è come se dicesse Platone, non dovete prendervela, appunto, con Pericle, inteso come se voi vi siete fatti guidare da colui che, in realtà, ha preso delle decisioni per voi, e avete fatto, appunto, coloro che l'hanno seguito, diciamo così, senza riflettere su ciò che stavano facendo. È chiaro che poi, se siete caduti nel baratro, o in fin dei conti, avete mancato di riflessione, è colpa vostra. Quindi il presupposto platonico è molto chiaro. Prima di seguire qualcuno, e prima di prendere delle decisioni che qualcuno dice, è meglio riflettere su questo presupposto. In realtà, probabilmente, questa è la critica di Platone, direttamente a Pericle, considerando anche il tema, sembra, dell'imperialismo di Pericle. Ora, il secondo punto è interessante, perché, attenzione, ovviamente nell'Antica Grecia non c'era il tema della dignità umana, non di meno il tema del diritto naturale, era un tema più che altro di stampo imperialista. Quindi, io sono più bravo di te, io sono più forte di te. Io non credo affatto che Platone volesse declinare questo tema, probabilmente, rispetto al tema, siamo tutti uguali. Ovviamente, Platone è un aristocratico in Atene, c'era tutto il tema delle fazioni, non di meno, c'era anche chi stava fuori d'Atene, e chi stava fuori d'Atene, classicamente, non era atenese, quindi era inferiore agli altri, era straniero. Platone sembra, in tal senso, intendere dire che, in realtà, la decisione va presa da un punto di vista comunitario, quindi è importante mantenere la politica. E quindi, in tal senso, non stiamo tanto parlando del fatto che Platone riflettesse su un presupposto di uguaglianza generale tra i greci, ma, soprattutto, più che altro, a mio parere anche, c'era dire che sembra probabilmente che Platone riflettesse sulla dinamica politica interna d'Atene, su che cosa stiamo facendo con la politica, perché abbiamo deciso di seguire costui, e magari non probabilmente un approccio più critico, non un approccio più filosofico, ed è per questo che, in realtà, Platone inserisce nel Gorgia Callicle, quindi cita Pericle, ma inserisce Callicle. Perché? Perché Callicle nel Gorgia interpreta un po' colui che è il tiranno e che ha il monopolio della forza, tramite cui costui alla giustizia e tutti devono seguire questa idea di giustizia, inteso come la giustizia non è un equilibrio che si costruisce all'interno della polis, tra i concittadini della polis, ma è, in realtà, il tiranno, dice Callicle, che ce l'ha questa giustizia. È come se Platone stesse dicendo Pericle, in certo qual modo, ha oscurato l'idea della partecipazione politica, pur mantenendola, attraverso anche, in qual certo modo, abbellendo la città e farvi dimenticare la vita politica, per utilizzare un po' quello che lui voleva fare a suo favore, non a favore della città. E quindi, in tal senso, per strutturare una dinamica politica a lui favorevole da un punto di vista della sua egemonia politica, non tanto per il bene comunitario. Ecco perché lo stesso Platone, poi a un certo punto, nella Repubblica, svilupperà un sistema con una tripartizione dell'anima, appunto anima di ferro, anima d'oro, anima di bronzo, guerrieri, filosofi, produttori, che in tal senso, dal punto di vista lineare, i filosofi hanno l'anima d'oro, i guerrieri hanno l'anima d'argento, i produttori hanno l'anima di bronzo, che in tal senso non preveda in realtà un monopolio della forza. Questo è interessante perché, naturalmente, in questo senso, Pericle critica, Platone critica Pericle. D'altro punto, c'è quello del Fedro. Infatti, Platone dice, eh, però Pericle, com'è che vi ha convinti? Ovviamente, non vi ha convinti tanto con l'approccio dialettico. Vi ha convinti con l'approccio oratorio. È interessante questo perché? Perché Platone, come si dicesse, colui che ha interesse ad avere voti, o colui che ha interesse, in realtà, a mantenervi sotto a lui, tramite cui voi lo seguite, e senza farvi più di tanto domande, pensando che lui sia colui che dovete seguire in quanto si erge su di voi, userà forse, più che altro, l'approccio di stampo oratorio, non già dialettico. Perché? Perché l'approccio di stampo oratorio, in quanto è diverso, in realtà, dall'approccio di stampo dialettico, tende a sviluppare un'argomentazione tale per cui non si segue tanto una verità sviluppata e congeniale per la comunità inteso come partecipazione politica, ma si intende a seguire una verità che è imposta attraverso fallacce logiche o in realtà attraverso una oratoria che non tende a sviluppare il senso dialettico delle cose. Quindi, è come se Platone stesse dicendo, al di là poi dei fatti che si possono dibattere, l'interesse di Pericle non era dialettico perché il suo interesse non era di una conoscenza generale filosofica, era in realtà soltanto della sua interesse personale nel mantenere il potere, ha utilizzato per esempio il partenone, così come le feste in generale, per appunto oscurare la filosofia e mantenersi sulla base della sua struttura di stampo oratorio. Infatti, che se ne dica, secondo Platone in tal senso, Pericle appunto sembra non avesse tutta questa capacità di stampo filosofico di essere in se stesso capace di mettersi in discussione, perché se no in fin dei conti, secondo l'approccio di Platone, non avrebbe utilizzato questo tipo di andamento diciamo artistico monopolista e in fin dei conti oratorio. Tutt'al più la dinamica di Pericle è molto interessante perché anche nella sua vita privata sicuramente lui comunque stava molto attento alle persone che frequentava da quando cominciò a sviluppare il potere in particolar modo dal 460 avanti Cristo stava davvero attento a partecipare alle sue feste stava attento a esporsi nella vita civile e stava attento a esporsi anche nella vita politica. Non di meno però determinate azioni le fece e in fin dei conti le fece anche indirettamente non solo da un punto di vista artistico ma politico. Quindi secondo Platone tutto questo è un approccio di stampo congeniale alla sua figura ma dall'altro lato oratorio quando gli serviva e dall'altro lato anche pratico da un lato per imporsi esternamente su chi non era atenese ma dall'altro per in fin dei conti mantenersi in equilibrio tra chi si opponeva a lui gli aristocratici in particolar modo perché aveva fatto una riforma su nullatenenti tale per cui anche i nullatenenti potevano partecipare alla difesa del territorio partecipando alla difesa della flotta inteso come tu sei nullatenente con questa riforma puoi entrare a far parte della difesa della flotta inteso come difesa della flotta puoi partecipare alla difesa del territorio grazie al fatto che puoi partecipare alla flotta cioè puoi fare il rematore e allora puoi in potenza partecipare alla vita politica gli aristocratici non erano contenti di questo d'altro canto aveva fatto anche quella riforma per limitare la cittadinanza e tutt'alpia aveva fatto anche tutta la struttura per abbellire la città tutto questo Platone lo riflette e lo riflette su una dinamica in fin dei conti della ricerca della verità non già della ricerca del favore politico della verità e quindi la conclusione di Platone in tal senso è che appunto sembra che il filosofo più che fare una ricerca della conclusione politica del mantenimento del potere faccia una ricerca della verità quindi in tal senso il filosofo non è tanto legato a un'impostazione di stampo diciamo monopolistico del vero quanto in realtà a una messa in discussione del senso reale del vero ciò che è vero e ciò che è falso lo dobbiamo dibattere quindi in realtà dobbiamo mettere in discussione anche gli altri in questo caso dobbiamo mettere in discussione l'uomo politico ma anche in realtà chi di competenza per vedere se è davvero di competenza quindi la questione anche platonica è ma Pericle era davvero competente era davvero colui che sapeva stare sopra di noi perché doveva stare sopra di noi oppure in realtà ci siamo affidati all'uomo sbagliato questa è la questione perché per quanto Pericle non visse nel periodo di Platone tutto ciò influenzò Platone ovviamente perché fu il periodo della guerra del Peloponneso e tra l'altro tutto ciò che Pericle alla fine decise portò in certo qual modo la politica successiva a dover prendere determinate decisioni sulla base del fatto che Pericle diede specifici ordini prima della sua morte agli Atenesi ordini che inevitabilmente impattarono sulla politica Atenese ciao